Buongiorno, benvenuti, questa è 7 in punto, una nuova puntata dedicata all'approfondimento di una tematica che ovviamente non ha soltanto a che fare con le nostre realtà, ma una tematica di carattere generale e nazionale, perché stiamo parlando di un momento storico anche del nostro paese, che abbiamo voluto definire oscuro con il titolo della puntata di oggi. Parleremo di Falcone Borsellino, ricordiamo che quest'anno sono trascorsi ben 30 anni da quando avvennero i due fatti, che non furono neanche a troppa distanza di tempo l'uno dall'altro. Ma questa mattina abbiamo una puntata davvero speciale, perché abbiamo ospite, la chiameremo una nostra vecchia conoscenza, perché è stata una persona che ha vissuto lo stage alcuni anni fa e con cui abbiamo avuto un bel rapporto professionale e umano, che è venuto a trovarci nelle nuove vesti che ha nella sua esperienza di vita, cioè le vesti di insegnante, di docente di lettere, ma non parleremo di quello, bensì parleremo di un momento accademico molto importante della sua esistenza, ovvero una tesi di laurea dedicata proprio a Falcone e a Borsellino. Andiamo dunque a ringraziare di essere con noi e ad introdurre Fabio Moretto. Buongiorno a te Fabio. Buongiorno Roberto, buongiorno a tutti. Grazie di essere con noi, ovviamente noi diamo del tuo al nostro ospite, perché abbiamo avuto la fortuna appunto di una bella esperienza di stage con Fabio. Fabio, allora inquadriamo questa tesi di laurea, in che momento della tua vita e come mai hai scelto questo argomento, che poi insomma lasceremo anche raccontare a te, perché ovviamente Fabio è anche venuto con il malloppo cartaceo della tesi di laurea. Sì Roberto, eccola qua, la mostriamo. La tesi appunto, il titolo è Ricordando Falcone e Borsellino, una ricognizione negli anniversari del 2002, 2012 e 2017. Questo lavoro è stato scritto tra il marzo e il luglio del 2020, quindi in pieno Covid, quando appunto la pandemia si affacciava nel nostro mondo. Perché la scelta di Falcone e Borsellino? Beh, Falcone e Borsellino rappresentano per me la degna conclusione del mio percorso di studi. Diciamo, prima ancora di arrivare all'università già li avevo conosciuti precedentemente, Falcone e Borsellino. Mi spiego meglio. Diciamo così, che l'evento scatenante di questo interesse per queste due figure fu la visione della fiction su Paolo Borsellino che andò in onda su Mediaset intorno all'autunno del 2004. L'anno dopo, quindi vidi questa fiction e da subito mi incuriosì, diciamo così, anche la statura morale di queste persone, l'impegno che avevano esercitato contro la mafia per un bambino di 11-12 anni. L'anno dopo, nel 2005, io mi recai in Sicilia per una vacanza con i miei genitori e passai davanti al monumento di Capaci che ricorda l'attentato del 23 maggio. Quando vado nelle scuole dico sempre, quando sono passato lì ho, come si è detto, un tuffo al cuore, perché penso che chiunque sia italiano e che abbia questo profondo senso dello Stato si senta investito emotivamente quando attraversa quel tratto di autostrada. Durante le scuole medie cominciai a ricercare anche notizie sui miei libri di storia a casa, nei giornali riguardanti Falcone e Borsellino. Poi fu così che nel primo anno di ginnasio al liceo classico lessi questo libro, Cose di Cosa Nostra, scritto da Giovanni Falcone con Marcel Padovani, che poi ho anche intervistato nella tesi, c'è un'intervista con lei. Questo libro mi ha aperto un mondo, Roberto, nel senso che mi ha veramente fatto conoscere da vicino la mafia, ma soprattutto mi ha fatto capire il lavoro che Falcone, Borsellino e tutti gli uomini dello Stato facevano per contrastare veramente il fenomeno mafioso. Molto bello quello che ci dici perché è il culmine di un percorso che è iniziato quando eri ragazzino. È molto bello perché sai, tante volte, nonostante l'importanza degli episodi, non diciamo si tenda ad archiviane, ma la memoria collettiva sembra un po' disperdere quelli che sono anche gli elementi importanti di vicende come questa. E tu sei riuscito insomma anche a concretizzarlo attraverso una pubblicazione che è una tesi di laurea. Hai vissuto delle belle esperienze, ci raccontavi proprio per realizzare questa tesi di laurea, tipo l'incontro con Marcel Padovanino. Sì, credo che l'incontro con appunto Marcel Padovanino sia stata un po' la ciliegina sulla torta di questa fatica, di questo lavoro. Tra l'altro un incontro che è avvenuto in una Roma semideserta, ancora diciamo così, definirei dormiente, nel senso che era una Roma che si stava lentamente risvegliando dal lockdown. Quando appunto sono andato a trovare Marcel Padovanino a Roma era a fine giugno del 2020, quindi non c'erano ancora i turisti stranieri a Roma, quindi veramente è stato anche vivere la stessa città in un contesto completamente diverso, perché due anni prima mi ero recato sempre a Roma con la precedente tesi sul rapporto tra carte digitale nel mondo del giornalismo, nella sede dell'Espresso e avevo chiaramente trovato una capitale che ribolliva di turisti, spumeggiante. Ecco sì, quindi diciamo così, mi sono sentito anche quasi un, come posso dire, molto molto piccolo di fronte a questa città che toglie il fiato per la sua bellezza. Io devo dire che l'incontro con Marcel Padovanino mi ha fatto veramente toccare con mano quegli anni, io all'epoca non ero ancora nato nel 1992 e mi ha fatto veramente conoscere anche da vicino il Falcone pensiero, l'uomo Falcone. Lei mi raccontava tra l'altro un aneddoto, lei e Falcone erano molto amici perché prima del rapporto lavorativo c'era un rapporto d'affetto tra i due e lei mi raccontava di questo episodio, di quando appunto lei termina la bozza del libro di Cosa Nostra e invita Giovanni Falcone, lei si trovava in vacanza in Alto Adige appunto, invita Giovanni Falcone in questa sua residenza appunto estiva in Alto Adige, in questa sua casa e dice vieni a leggere il libro, vieni a vedere se insomma ci sono delle modifiche da fare. E quindi poi vanno a cena, la sera mi racconta e stanno parlando così del più del meno, nel senso stavano parlando dell'impero asburgico e nota che Falcone sta praticamente scivolando giù dalla sede, quindi è quasi annoiato da questi discorsi. Allorché lei diciamo così guardandosi con suo marito capisce che sta perdendo tra virgolette Falcone dalla serata e quindi comincia a parlare di mafia e subito Falcone si riattiva. Quindi lei mi ha sempre detto un uomo che viveva e parlava di mafia, completamente immerso in questo suo impegno che appunto durava tutto il giorno, non aveva purtroppo tempo per la famiglia Falcone, tant'è che quando sposò la seconda moglie, appunto Francesca Morvillo, decisero di non avere figli anche per questo motivo qua, oltre al discorso relativo al rischio che chiaramente c'era ed era molto forte. Sì, anche perché Francesca Morvillo, lo ricordiamo, è tra le vittime della strage di Capaci, per cui quelle donne che seguivano il loro uomo, il loro marito, insomma fino alla fine. Come lo è stata ancora prima Emanuela Setti Carraro, la seconda moglie di Dalla Chiesa. Sì, sì, mamma mia, che momenti terribili della storia del nostro paese, indubbiamente. Tu sei rimasto affascinato, ma sì anche per quello che rappresentavano, perché a un certo punto la mafia sembrava questa piovra con cui una volta si indicava metaforicamente, attingendolo al mondo animale, la mafia che riusciva ad arrivare un po' dappertutto e questi due uomini, stiamo parlando di Falcone ma anche di Paolo Borsellino, qualcuno dice che siano stati lasciati da soli. Ma indubbiamente sono stati ostacolati in vita. Nel primo caso Falcone ha ricevuto una serie di delusioni, di bocciature e non ultima la famosa non nomina al posto di Antonino Caponnetto come giudice istruttore a Palermo. Quella è un po' la goccia che fa traboccare il vaso. Per te che poi nel 91 viene chiamato a Roma, proprio dal Ministro di Grazia e Giustizia Martelli, a fianco proprio del Ministro Martelli, per, se vogliamo, lottare ancora più da vicino, guardare ancora più da vicino la mafia e soprattutto rifondare e riformare il nostro sistema anche di indagine. Non ci dimentichiamo che la DIA, le misure del carcere duro, la famosa stagione del pentitismo sono tutte cose che noi oggi, Roberto, diamo per scontate ma che sono state volute e definite proprio da Giovanni Falcone. Quando l'anno scorso, ricordo, a fine maggio venne liberato Giovanni Brusca anche nella scuola dove appunto insegnavo ci fu molta rabbia, molta delusione da parte dei miei studenti, ragazzini delle medie che qualche giorno prima avevano ricordato con me l'anniversario e poi una settimana dopo videro questa notizia. Però io, ho detto loro, è chiaro, la prima reazione è la grande indignazione che si ha verso comunque il personaggio che è lui che ha premuto il famoso telecomando, il bottone per far saltare in aria l'autostrada, che ha alle spalle probabilmente 250 mocivi, tra cui quello del piccolo di Matteo. Però la legge sul pentitismo, il fatto della collaborazione di questi criminali, è chiaro che c'è una situazione di do ut des, cioè io dico cosa so riguardo al sistema, cosa nostra, però è chiaro che ho bisogno poi dei benefit, altrimenti c'è chiaramente un rischio per il pentito. I benefit sarebbero la protezione e chiaramente poi uno sconto anche di pena. Brusca grossomodo ha fatto 24-25 anni di carcere, non ne ha fatti pochi, per carità. Certo è, qualcuno dice sempre, a queste persone, anche i nostri politici dicono che ci vuole soltanto il carcere a vita. Sono poi punti di vista in cui io non voglio entrare, dico c'è una legge voluta anche da Falcone, come ha detto sua sorella Maria, quindi questa legge va rispettata. Senti, ti sei occupato di un argomento scomodo, ci sono stati mai dei momenti in cui ti è venuto da pensare, lasciamo stare, per non addentrarci troppo in trame non solo oscure, ma anche che andavano un po' contro quello che è la storia per come ci è stata mostrata e per come invece dovrebbe essere. Il fatto di aver scelto gli anniversari più importanti, 2012 e 2017, quindi decennale, ventennale e 25ennale, può essere stata anche una scelta banale da parte mia, però io ho voluto farlo perché sapevo che in occasione di questi anniversari più importanti ci sarebbe sempre stato un qualcosa che avrebbe poi alimentato il ricordo, nel bene o nel male. Sicuramente l'anniversario che mi ha forse creato più difficoltà nella ricerca e anche poi nell'elaborazione di tutte le informazioni che ho ricavato, c'è a dire una cosa, io ho scelto soprattutto di analizzare i giornali dell'epoca, scelta che un po' è stata dettata dalla situazione in cui, dicevo appunto prima, a marzo le biblioteche, tutto quanto era chiuso, quindi ho dovuto, tra virgolette, arrangiarmi nel ricavare, nel reperire le informazioni e i materiali utili al mio lavoro. Devo dire, l'anniversario del 2002 è stato quello più difficile, più ostico. Uno, secondo me, per il fatto che io all'epoca ero poco più che un bambino e quindi i ricordi, non avevo molti ricordi a riguardo. Seconda cosa, quello che poi ho visto e ho capito è che probabilmente era ancora un anniversario, tra virgolette, fresco, nel senso che non c'è stata quella riflessione, quel ricordo così anche intimo come invece è stato negli anni dopo. C'è stata all'epoca più una polemica tremenda tra i due poli, tra destra e sinistra, all'epoca c'era il governo Berlusconi, che lì c'è stato come una sorta di salire sul carro dei vincitori, sul fatto di dire mi accollo io il merito di continuare la lotta alla mafia e quindi ci fu un aspro scontro tra le due nostre aree politiche, centro-sinistra e centro-destra e questo guastò particolarmente tutti e due gli anniversari, perché poi anche in occasione dell'anniversario di Borsellino, anche la famiglia non aveva voluto rappresentanti delle istituzioni, quindi poi intervenne Fini per cercare di gettare acqua sul fuoco, lo stesso Casini che all'epoca se non ricordo male era presidente della Camera, quindi non fu un anniversario limpido dal punto di vista del ricordo. Se invece andiamo poi a vedere il 2012, il 2012 è un anniversario che ha assunto tutta una serie anche di significati, in primis che qualche giorno prima ci fu l'attentato alla scuola Morvillo Falcone in Puglia, se non ricordo male a Lecce e tutti pensavano che fosse un gesto spettacolare da parte della mafia in occasione del ventennale, guarda caso, l'attentato alla scuola avvenne se non ricordo male il 19 di maggio e appunto l'anniversario era il 23, quindi tutti pensavano che potesse essere un'azione intimidatoria. Poi in realtà le indagini fecero chiarezza e il gesto era purtroppo stato fatto da parte di un mitomane, quindi non aveva nulla a che vedere con la mafia. Il 2012, ci ricordiamo, c'erano stati degli eventi particolari in Italia. C'era un'Italia che era soffocata dallo spread, perché eravamo in piena crisi economica, in piena austerity. C'era stato poi il disastro della Costa Concordia a gennaio, proprio in quei giorni, il 20 di maggio, il tremendo terremoto in Emilia. Quello che ho percepito era una voglia di normalità e soprattutto un bisogno disperato di punti di riferimento da parte dell'opinione pubblica, da parte della gente, tant'è che poi il Corriere della Sera uscì in occasione del ventennale con due volumi su Falcone e Borsellino, Il coraggio e l'esempio. Il fatto di puntare su queste due parole, che non sono poi due parole buttate lì in maniera banale, ma è proprio un'esigenza, un bisogno di ricercare i loro valori, la loro moralità per dare anche una sorta di sicurezza, di protezione e di speranza all'epoca, a tutti noi. Il 2017, che è l'anniversario più fresco, poi vedremo questo trentennale, come sarà. Credo che sia stato un anniversario, forse il più intimo, perché non ci dimentichiamo che due anni prima era arrivato al Quirinale Mattarella. Mattarella sappiamo tutti che ha perso un fratello, Pier Santi, il 6 gennaio del 1980, tra l'altro un delitto con tantissime zone d'ombra che nemmeno Falcone era riuscito ad interpretare. Quindi io credo che ci sia stata una maggior sobrietà, una maggior attenzione e poi c'è stata, perché dico maggior attenzione? Perché poi negli ultimi anni, alla luce purtroppo dell'evoluzione dei processi relativi a Borsellino, relativi alla trattativa Stato-mafia, quindi la sete di verità ha probabilmente animato ancora di più la voglia di ricordare da parte dell'opinione pubblica, da parte anche dei giovani. Io dico sempre ai miei ragazzi Roberto e riporto le parole che dicono Liliana Segre e il nostro Presidente della Repubblica, i giovani devono coltivare la memoria, sono loro i portatori, altrimenti la memoria va dispersa e questo non vale soltanto nel ricordare Falcone e Borsellino, ma vale per tutte quelle situazioni o quelle persone che sono state dei protagonisti all'interno della nostra storia. Certo, sì ecco, ricordiamo anche, ovviamente sono ancora situazioni giudiziarie in corso, i processi Stato-mafia si devono proprio anche a questi due personaggi, questi due grandi personaggi, Falcone e Borsellino, insomma, per cui hanno avuto una rilevanza, qualcuno si domanda, ma che cosa hanno fatto? Non hanno fatto poco, hanno portato avanti una lotta che sta tuttora procedendo e sai, fammi intanto che parlavi di questa situazione, ci veniva in mente l'Italia del 2012, l'entusiasmo che avrebbe avuto nel ricominciare e nel ripartire con l'Italia del 2022, cioè a distanza di dieci anni, per situazioni completamente diverse, ma lo spirito, la voglia rimangono gli stessi ed è pazzesco come i corsi e i ricorsi storici, anche a distanza di pochi anni, possano verificarsi, magari secondo situazioni diverse, veramente è incredibile insomma. E senti, tornando al lavoro tuo di questa bella tesi di laurea, anche il confronto con un personaggio come Marcel Padovani e anche gli orizzonti che ti ha spalancato, pensiamo che siano state una bella esperienza, cioè anche una maturazione, un'apertura mentale per te. Assolutamente sì, anche perché poi quando io mi sono trovato così, tette a tette, come siamo noi in questo momento, ho ricordato anche quel 1992 con lei, che io l'ho definito nel mio lavoro l'annus horribilis per l'Italia, perché se noi analizziamo quel 1992 non è che vediamo soltanto le bombe di Palermo e le identifichiamo come un fatto a sé stante, no, no. Cioè le bombe di Palermo sono da comunque, diciamo così, mettere in relazione con gli altri eventi devastanti per la storia d'Italia, perché non ci dimentichiamo, andiamo con ordine cronologico, il 30 gennaio del 1992 c'è la sentenza di cassazione del maxiprocesso che condanna la mafia proprio senza appello, i famosi 2600 anni di carcere, i 19 ergastoli, Rina e Provenzano per la prima volta messi all'agonia, anche Mediatic. Due settimane dopo l'arresto di Chiesa e quindi l'inizio di Tangentopoli, poi a metà marzo l'uccisione del luogotenente di Andreotti, di Salvo Lima. Sono tutti eventi che non possono essere visti come, diciamo così, situazioni a sé stanti, ma sono correlate tra loro, perché la reazione che ha Rina, che ha la cupola di fronte alla sentenza del maxiprocesso è devastante, cioè si rompono gli schemi, cioè chi si mette adesso contro la mafia deve essere eliminato e il banco salta proprio con l'uccisione di Lima, che era un personaggio politico molto importante in Sicilia, era un eurodeputato, era il braccio destro di Andreotti. E poi c'è tutto quell'ingorgo istituzionale perché non ci dimentichiamo, allora Milano-Tangentopoli, a Roma c'è il terremoto politico dei partiti e in quel momento cosa stava succedendo? C'era il Presidente della Repubblica che era nel semestre bianco, stavano finendo il mandato Cossiga, che tra l'altro Cossiga lo sappiamo è stato un personaggio mediaticamente molto forte, che cosa fece? Decise di addirittura rassegnare le dimissioni dal Presidente della Repubblica una settimana prima il 25 aprile, quindi sceglie anche una data che proprio è veramente simbolica. Ci sono le elezioni, ne viene fuori un risultato in cui non c'è nessun partito alla maggioranza, quindi bisogna formare il governo, bisogna eleggere il nuovo capo dello Stato, quindi ci rendiamo conto che c'è tutta una serie di avvenimenti che veramente, io l'ho definito ingorgo istituzionale e vuoto anche istituzionale, perché in questo momento la politica non è in grado di esprimere una leadership e non è in grado di tenere le redini dello Stato e non a caso l'attentato di Falcone cambia anche la stessa corsa al Quirinale, vengono bruciati una serie di nomi, ma vengono bruciati di nomi importanti, da Craxi ad Andreotti che sembrava il favorito e poi guarda caso all'ennesima votazione viene fatta una scelta diciamo così per mettere tutti tranquilli e viene eletto Oscar Luigi Scalfaro, Presidente della Camera ed ex Ministro degli Interni negli anni 80, nel governo se non ricordo male di Craxi nell'85, quindi sono eventi da poco, quando si guarda quel 1992 vengono i brividi per tutta questa serie di eventi, ricordando poi il fatto che l'Italia veniva da comunque un periodo florido, gli anni 80 erano visti veramente sempre come la grande illusione, il fatto che in Italia si stava bene, tutto andava bene, la Milano da bere, il lusso, la moda, il fatto che comunque eravamo la quinta potenza mondiale, però di fronte diciamo così a questo velo meraviglioso c'erano dietro dei problemi grossissimi, il debito pubblico, le promesse della redistribuzione del reddito molto facili, ecco io ho definito i mondiali di Italia 90 il canto del cigno del nostro peso, perché è vero, è l'ultima grande sbornia, perché poi purtroppo arriveranno tutta una serie di avvenimenti, come ho detto poco anzi, che ci faranno svegliare in maniera molto brusca e quando discuto di queste cose con amici e anche colleghi mi dicono da lì in poi non siamo più riusciti a riprenderci come paese, non siamo più riusciti a rivedere le stelle nel senso di ritrovare quella alchimia degli anni 80, quando anche ascolto le parole dei miei genitori mi dicono gli anni 80 ti sembrava di essere padrone del mondo, che tutto ti poteva andare bene e se invece ci pensiamo adesso a tutte le difficoltà dei giovani nell'entrare nel mondo del lavoro, lo vediamo veramente come un mondo faulistico, è vero. Però insomma ci sono anche lì delle condizioni per cui l'Italia di oggi non è che si avesse molto meglio, anche perché oltretutto mancano anche delle figure di riferimento, non abbiamo più il politico, tu hai citato dei nomi che nel bene e nel male comunque la si possa pensare, erano delle figure che lasciavano il segno. Ed erano figure che poi erano un grande polo attrattivo di voti, c'era una comunità dietro queste persone, c'era un esercito di elettori, adesso noi assistiamo anche, analizzando anche questa tesi, mettendola nel 2022, io mi accorgo che la sfiducia nella politica è perché mancano dei punti di riferimento, ma manca Roberto una formazione degli stessi politici. Cioè noi ci troviamo molto spesso persone che si trovano lì non forse per meritocrazia, per meriti diciamo così personali, ma un po' per caso. E questo purtroppo, questo cattivo andazzo, è partito proprio dal... Cioè Tangentopoli non ha ripulito, ma ha inaugurato purtroppo una stagione di mala politica, ha semplicemente scoperchiato il vaso di Pandora, ma purtroppo Tangentopoli la vediamo ancora ogni giorno, quante volte sentiamo comuni anche nel nostro Veneto che vengono sciolti per infiltrazioni criminali. Sì, purtroppo era anche proprio di questo che volevo parlare con te in questo minuto conclusivo, vedete come vola il tempo. Oggi che abbiamo visto la mafia ancora più da vicino, noi comuni cittadini in Veneto, Triveneto possiamo dire, c'è la consapevolezza che la mafia non solo non è morta, la mafia ha cambiato aspetto, strategie ed è molto più vicina a noi di quanto non lo fosse nei tempi appunto di Falcone e Borsellino. Parliamo proprio geograficamente. Sì, sì. Allora, lo Stato ha comunque saputo reagire, nel senso che ha messo alla sbarra comunque tutti quei leader che hanno segnato quella tremenda pagina di storia del nostro paese. Però manca l'appello per esempio ancora a Matteo Massina Denaro. Questo grande latitante. Questo grande latitante, introvabile, probabilmente anche magari cambiato i connotati, quindi non si riesce a capire come lo Stato arrivi sempre lì sul punto ma è un fatto di girarci attorno, non riesce mai a colpire proprio direttamente questa persona. Tornando al discorso geopolitico della mafia, è una mafia che ha cambiato pelle, che ha cambiato strategia, non ci sono stati più gli attentati dinamitardi, le azioni spettacolari, ma è una mafia che si è infiltrata proprio nel sistema Stato, quindi nelle attività economiche e che lavora sotto traccia. Preferisce lavorare così perché può essere chiaramente difficilmente scopribile, quindi c'è un interesse poi verso il nord, ad esempio i rifiuti e poi la stessa attività delle sostanze stupefacenti passa in secondo piano perché viene visto molto più attrattivo e molto più redditizio il gioco d'azzardo, le slot machine che purtroppo guardiamo anche vicino a noi, nelle nostre città, quanto proliferino anche queste sale a gioco, ovviamente con tutti i problemi che ne derivano. Che ne derivano, indubbiamente. Fabio ci serve da parlarne veramente per ore e per più trasmissioni, noi ci dobbiamo purtroppo fermare qui salutando Fabio Moretto che lo ricordiamo oggi è docente di lettere, è stato un nostro grandissimo stagista e è venuto a parlarci di questa tesi di laurea che risale a che anno, la tua tesi? Allora la mia tesi è del 2020, è del 2020, quindi quasi ormai due anni fa, adesso vedremo se ci sarà magari un seguito con il fatto del trentennale perché mi piacerebbe magari poter finire con questo lavoro, credo con il trentennale potrebbe essere una chiusura e possiamo anche insomma essere curiosi del fatto come la pandemia inciderà su questo ricordo, su questo anniversario. Per cui 2002, 2012, 2017 e adesso 2022 sono dei riferimenti temporali importanti che ci riportano a questa grande tragedia dell'Italia del dopoguerra. Fabio grazie e buon lavoro. Grazie, grazie a te Roberto per l'invito. Grazie a Fabio Moretto, nostro ospite questa mattina, a voi per averci seguito. Sette in punto si chiude qui e vi rimanda ovviamente alle prossime giornate con altri temi da approfondire e da analizzare. Intanto grazie dell'attenzione, buona giornata e arrivederci. Grazie a tutti.